Nonostante sia stata riaperta anche la seconda area di sosta al ridosso dell'ingresso della torre di Cerrano e Pineto, continua il caos parcheggi con numerose auto posizionate ai lati della Stata Le 16. Anche oggi giorno ferriale sono diverse le macchine lasciate a bordo strada malgrado la disponibilità del parcheggio a pagamento. Una problematica che nel weekend si amplifica di gran lunga e si ripropone così la questione della sicurezza, visto che le auto di passaggio in quel tratto di rettilineo spesso sfrecciano a velocità elevata e il rischio di investimento per chi cammina sul ciglio della strada è alto. Sì, sono tante le auto perché è tanta la voglia di visitare quel luogo, la torre di Cerrano, l'area marina, sempre più ambita come zona. Ovviamente la sicurezza è il primo posto, adesso attraverso anche una disposizione del TAR, uno dei parcheggi in particolar modo è stata riaperta, seppur a pagamento. Quindi diciamo che per gran parte della settimana c'è il posto dove poter parcheggiare se si desidera recarsi presso l'area marina in auto. Diversamente molti ormai vanno in bicicletta oppure ci si allontana un po' per parcheggiare, c'è un parcheggio presso una struttura commerciale, qualche centinaia di metri più a sud. Nel fattempo sta andando avanti alla progettualità che interesserà le due zone ed immediatamente dopo l'estate ci saranno i passaggi dovuti negli relativi organismi di giunta e arriveranno in consiglio comunale. Puntiamo per il prossimo anno ad offrire un'area attrezzata di parcheggi con il coinvolgimento ovviamente dei privati perché ricordiamo che sono due aree private. Una condizione che i vigili urbani stanno monitorando con attenzione sanzionando giornalmente chi parcheggia a ridosso della strada e non lascia spazio per il passaggio dei pedoni. I vigili fanno il loro lavoro. Ricordiamo che il loro lavoro consiste nel garantire la sicurezza. Se le auto sono parcheggiate in un certo modo la polizia locale non fa alcun tipo di verbale. Se le auto sono parcheggiate in modo che possono arrecare un pericolo per i pedoni è bene ricordare anche seppur non in quel sito ma ad alcune centinaia di metri più a sud c'è stato anche un incidente mortale giusto alcune settimane fa. Quindi è bene che i vigili facciano il loro lavoro e che i cittadini facciano attenzione.